La tigre del farweb che gioca a Minecraft, con quel volume che c'è, Duke 4316 Ciao a tutti ragazzi sono Duke e benvenuti e ritrovati in un nuovo episodio della FTB Interaction Episodio 35 se non erro, dovrebbe essere 35, yeps Ragazzi come sempre vi ricordo tanti like, mi raccomando condividete a tutti i vostri amici E venitemi a trovare in live tutti i giorni, dalle 15 in poi, ma a breve, in questi giorni cambierà completamente il programma streaming Quindi seguitemi nei video, soprattutto sui social, Instagram, ho aperto addirittura ragazzi un nuovo Instagram, voi non lo sapete Si chiama Luke4316 live su Instagram, cercatemi e lì troverete tutte, oddio, un sacco di clip divertenti e non derivanti dai live Di tutti i giochi che faccio eccetera, clip di, magari se gioco a Valorant quando faccio un Ace, quando gioco a Minecraft qualche battuta eccetera eccetera Venitemi a trovare Sono andato in caverna a raccogliere del carbone, del coal, perché ci servirà Perché sono da portale? Ah sono un pirlo, oddio, quello è coal, meno da raccogliere ragazzi Mentre chiacchieriamo lo raccolgo perché mi serve per tritolarlo, capito? Siccome il coal messo nello squeezer, non è come nei pacchetti normali o Minecraft base che tu raccogli il coal, te ne dà a volte anche più di uno No, qua di coal te ne dà uno, perché non ti dà il coal già, vedete, se io lo raccolgo Mi dà il coal ore, messo poi nello squeezer mi dà un carbone Quindi me ne serve tanto, 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 io pensavo fosse tutto carbone Invece è l'ignite, se non erro, è l'ignite vero? L'ignite, certo Dicevo, in questi giorni cambierà totalmente il programma streaming Sto facendo un gioco di pesca ragazzi che è bellissimo Vi trovo guardare il live la sera più che altro, anche la mattina a volte Un gioco di pesca bellissimo, credo sia il gioco di pesca più bello che io abbia mai visto E non è uno scherzo ragazzi, voi sapete quanto io ami la pesca E mi piacciono bene o male tutti i giochi di pesca Ma questo li batte tutti Questo li batte tutti, perché i russi Il gioco è Fishing Russian 4, una cosa del genere I russi ragazzi, cioè i migliori simulatori al mondo, li fanno in Russia O in Germania, non mi ricordo Comunque è bello, 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 bello Ascolto i vostri consigli, ho letto i vostri commenti Perché sto entrando nel portale Quindi taglierò almeno possibile nei video da oggi in poi, ok? Ed è ritornato Porto Minecraft E puntualmente torna un mio fans Antico, anziano, molto anziano alla mia età, credo Pierfi83 ragazzi, Pierfi83 Se è il suo anno di nascita, allora la mia stessa età Koal, Koal e Koal Oh ma non ho fatto tanto di Koal Mica micio, micio, miau, miau qua Mica micio, micio, miau, miau qua Ehm, Pierfi Che Pierfi mi dice Luke, per allontanare i mob Utilizza la Pace Candle Una cosa del genere Della... Vabbè, la faccio vedere, questa qua Della Random Things Pierfi, caro Pierfi Io vorrei tanto utilizzare la Pace Candle Sapevo si stesse Per allontanare i mob Guarda un po' il crafting Secondo te Io come faccio? Come faccio? È impossibile in questo momento È impossibile Dovrei darmela in creativo Metterla per non far spawnare i mob Ma è brutto È una cosa bruttina Allora, oggi signori Finalmente se riusciamo Faremo la sfida Ho messo qua a cuocere Vedete? Faremo, se riesco, la sfida Delle sedici Sedici circuiti Tanto a noi servono Cioè, più che sfida È un favore a noi stessi Visto che ci servono Non credete? Oggi mi scatticchia Minecraft Non capisco I don't decapish, man No, la cobre sono... Vabbè, è uguale, dai È uguale, dai Questi qua sono troppi I don't decapish, man Via, via E via Oh Inventario bello, lindo Pulito, brillante E andiamo a fare i sedici circuiti Quindi Iniziamo Circuit Cuit Dobbiamo fare, in poche parole 32 Perché sono serici Quindi doppio 32 glass tube Che si fanno con L'ambardam E il vetro La polvere di vetro Non è un problema Non è un problema Che di vetri ne abbiamo 6 Dovremmo avere qualche scheggia Frantumata Da qualche parte Qualche scheggia frantumata Da qualche parte Non mi dite che ho perso Il vetro Eccoli qua Eccoli qua Baussino Dovrei mettermi a fare Altro vetro Signori Infatti nel prossimo episodio Credo se riesco Farò Piccolo impiantino Per il vetro Che mi piacque Mi piacque Me ne servono 32 Gentilmente 29 30 Aviamo 8 Ce li ho 8 le ho 8 li ho 8 li ho Eccoli qua 8 Ma altri 2 li ho Vabbè Che poi questi qua Me li fa doppi No me li fa singoli Il cacchio Me ne servono 8 8 10 10 23 24 26 7 8 8 21 32 Senti Facciamone in abbondanza A me non interessa L'apparanza qua Vetro Che si va Bisogna fare il vetro Ehm Dove cacchio scegliere i materiali qua Vetro 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 Cioè Cioè Il vetro c'è Lo teniamo Il vetro c'è Ah Vetro Mettiamo un po' di vetro Copper No Vetro Vetro Bronzo Mi ricordo più Devo fare il piattino forse Allora devo fare il piattino Ho capito Ho capito Mi sono ricordato Mi sono ricordato Facciamo cheschi Prendiamo Ben 2 4 Quindi facciamo 10 Cheschi 7 8 9 10 Di cheschi Si mettono così Voilà Madonna mia Quando ti ricordi poi crafting a memoria Vuol dire che stai andando molto bene Molto bene E oltretutto Non sono crafting normali Ma sono i crafting della GregTech Quindi Stiamo andando ancora più bene Bene Non mi dire che ci vogliono i lingotti Perché Perché faccio una cosa brutta Faccio Ok la cosa brutta Non la faccio Allora No Devo metterli qua Via il piattino Via il piattino Abbiamo i zuccherini Mi serve Ma lo cacchio l'ho messo io Ma non l'ho mai fatto No ragazzi Io l'avevo fatto Non scherziamo Non scherziamo Questo è del lingotto Non scherziamo Dai Dai non scherziamo Eccolo qua E infatti Cioè non ci prendiamo per i fornelli Con le acciughe Perché poi mi arrabbio Mi tocca poi Tirare le somme Mi tocca tirare le somme Zagadeio Qui Come si è messo Ok Si può spegnere Abbiamo il coal Che però il coal Ora va Ricollato Funziona E vabbè Coal dust Fantastico Perché quello che voglio fare Me lo fa con il coal dust E non con il charcoal dust Qui come stiamo andando Carciofi Sta funge 18 16 16 Ehi stiamo scarseggiando amico C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che ti turba amico Ma sapete che io un po' Raga Che non Ma io quel cazzo questo Quel cazzo E' un po' che non vado a vedere La zona alberi Sulla minimappa Mi dà dei blocchietti rossi Che però vanno via Quindi la zona alberi sta funzionando alla grande Sembra Sembra stia funzionando alla grande La zona alberi Allora Attendiamo un po' Beh grande grande Mica tanto eh Alla grande grande Mica tanto Questo qua mi servono per esempio 11 No ma ne sono No stack Che mi serviranno Cerchiamo di liberare un po' più l'inventario Questi alberelli possiamo venderli Per il momento E Va bene Dai abbiamo ancora un po' di spazio Come possiamo liberarlo ragazzi Possiamo liberarlo in un modo Facciamo Una cestica O se no più presto dobbiamo fare dei barrel Ricordiamoci di fare dei barrel In questo episodico Qui ha finito Iagadà Qui avrà finito Iagadà Col pensiero Iagadà Sono in carenza di ferro Non è vero qua ce l'ho Non è vero qua ce l'ho Io ci guardo a quanto Ne ho Allora Ho letto i commenti Mi avete letto Luke Quando li metti a cuocere 16 Secondo noi Secondo voi Ci mette tanto tempo Perché secondo me fa il calcolo Di ognuno di questi qua Vedete E poi lì somma Ci mette Tanto tempo Rispetto a uno per uno Però Secondo voi Uno per uno Consumano La stessa lava No in realtà ragazzi La lava no 200 200 200 150 No secondo me ragazzi Non consumano tanta lava Come dite voi Perché il vostro ragionamento era Luke Guardate eh Andiamo un po' 150 Andiamo un po' Il vostro commento era È vero che così è più veloce Però magari ognuno di loro Consuma un totto di lava Il blocco da 16 Ci mette più tempo Ma consuma meno lava Ragazzi guardate Eh no No Ho ragione io Ho ragione io Conviene Mille volte fare così Sarà un bug Non se ne saranno accorti i creatori Sapete che io sono un Ritrovatore di bug Non se ne saranno accorti Fantastico Mi avete detto Un'altra cosa Sapete che i commenti a volte Quando riesco li legono Sempre Che qua Se io ne metto un altro sotto Dovrebbe addirittura Dropparmi Ma io l'ho messo sotto Ragazzi Me l'ha cagata Me l'ha cagata Me l'ha cagata Ma sono cose Dai ragazzi Allora niente L'ho fatto L'ho fatto Oh cacchio Stavo per fare un patatrick Se li avessi buttati all'interno Io li avrei persi Bruciati Devo pulirli prima Porca miseria Uno Due Tre E vabbè E vabbè Almeno dentro Buttarmi La La E la Manca l'acqua Manca l'acqua Amore mio Ecco qui Ecco qua Ecco qua 3 di ferro Io posso creare Finalmente Le mie Teamplate E non consumare Più materiali Grazie al nostro Impiantologiogico Eh Uh Ok Ecco qui amo Che bella vita Che fate eh Voi il video Tutto bello Tagliuzzato E io un quarto d'ora Qui a fare legna Eh Bella vita che fate Ragazzi Mi sono accorto Che guardate qua Io mi sa che L'ho superato Le 2500 uova E nel prossimo episodio Se riusciamo Le utilizzeremo Per fare una cosa Ma una cosa Magnifica Una cosa Magnifica Che non c'entra nulla Con gli impianti Però è una cosa Magnifica Vedrete Vedrete Ci sarà Bello Ci sarà bello Ci sarà bello Termino la legna E ci vediamo tra poco E L'ultimo Mi servono 4 cestiche Poche parole Quanta legna abbiamo Uno stack E passa Qui abbiamo il ferro Che però Per il momento Non ci serve Sperando che Ah Dobbiamo sperare anche Che non si riempia la cesta Dobbiamo controllare Tanto in tanto Allora Facciamo 4 cestiche Voilà Me ne vengono 5 Non ne voglio 4 Non esageriamo Non esageriamo Ma io non c'ho Ah ok E ne ho fatto 5 alla fine Va bene 5 cesti Guardate 4 di questi Sbalabam Facciamo Rebarrel Perché Io ne voglio 4 Antoni Das Ne voglio 4 Ho fatto anche i ferretti Qua Me ne avanza 1 E io riesco A farne 1 Perché Hai capito Hai capito Hai capito Che sono 1 alla volta Ok ok Non c'è problema Signore e signori 4 barrel Sono contentissimo Sono molto contento Perché adesso Finalmente Possiamo Io vorrei Metterli in fila Manca una legna Perché manca una legna Questo è 1 E di qua invece Tanto Manca una legna Quindi facciamo Sacatello E mettiamo la legna Andiamo a vedere Di prendere Quello che vogliamo noi Ora vi faccio vedere Cosa intendo Cosa intendo